è una notte buia guardate guardate solo una luce al centro dello schermo è l'unica notte con solo questa luce visibile è la luce della paura quella che prenderà tutti voi dopo aver visto questo film non è un gioco è una macabra realtà quella che vedete è la luce del demonio e l'oscurità le tenebre vi circonderanno addio